Il Borgo di Orso Marso diventa un set cinematografico. Per le proprie bellezze naturalistiche, architettoniche e ambientali, è stato scelto come location dal regista premio Oscar Danny Boyle per girare assieme ad un cast stellare la serie TV Trust. Ambientata nel 1973, racconta la storia dell'erede di un impero petrolifero rapito dall'Andrangheta per ricavarne un cospicuo riscatto. La fiction, che avrà un'eco planetaria, rappresenta una grande opportunità di promozione per il suggestivo comune dell'Alto Tirreno Cosentino. Un'opportunità che oggi ha toccato Orso Marso, ma che io credo possa interessare l'intera Calabria. Ne è convinto il sindaco Antonio De Caprio, tra i promotori in comune, di un incontro moderato dal giornalista Valerio Caparelli, che ha visto la partecipazione di Enzo Sisti della Lotus Production. Fare film significa conoscere la gente del posto, fare film significa avere una squadra che lavora insieme a te, che funzioni benissimo. E di Giuseppe Citrigno, presidente della Calabria Phil Commission. Questo è un progetto che comunque si svolge per la maggior parte delle riprese in Calabria, ne siamo molto soddisfatti, soprattutto perché si parla di un progetto internazionale che permetterà alla Calabria di avere questa visibilità a livello quasi mondiale. Quindi per noi è una grande soddisfazione, soprattutto per lo sviluppo del territorio, del cineturismo. Ma non dimentichiamo che in questa produzione hanno preso parte alcune nostre maestranze tecniche. Cinema e territorio calabrese si confermano un felice binomio. Erika Cunzolo per la Cineus24. Erika Cunzolo per la Cineus24.